Dottor D'Angelo, un protocollo d'intesa tra la Procura Generale e le procure del distretto per meglio combattere la criminalità organizzata in uno scambio di informazioni che è costruttivo, mai distruttivo? Certo, questo scambio di informazioni è necessario per conoscere meglio le situazioni, perché voi considerate che il distretto di Campobasso è diviso in tre parti, in tre circondari, in tre tribunali, Isernia, Larino e Campobasso. Ora, che succede? Che la Procura Distrettuale di Campobasso ha una competenza su tutta la regione, come Procura Distrettuale, ha una competenza specifica sul circondario di Campobasso. Inevitabilmente, quello che avviene a Campobasso e dintorni c'è più noto, perché a noi capita di tutto, dal piccolo abuso di lizio al fatto più grande. Viceversa, quello che succede sulla costa o in provincia di Isernia c'è meno noto, cioè noi lì interveniamo solo per i fatti di particolare rilevanza. Ecco, questo scambio di informazioni vuole proprio questo, cioè anche i fatti intermedi ci vengono comunicati tempestivamente in modo che ci possiamo fare un'idea migliore. E poi la possibilità di crescita per i magistrati che potrebbero essere applicati alla distrettuale antimacso? Anche questo è un aspetto importante, cioè nel momento in cui Isernia o Larino stanno facendo delle indagini, immagino, non so, quella più frequente può essere quella per droga, dove si comincia a configurare un'associazione, quindi un articolo 74 di competenza della distrettuale, quel magistrato che sta seguendo quell'indagine trasmette gli atti a Campobasso come di dovere, ma nello stesso tempo può lavorare applicato a Campobasso sulla sua indagine e quindi questo è anche uno stimolo in più per lavorare meglio e per utilizzare strumenti diversi perché obiettivamente le indagini della DDA hanno degli strumenti normativi che ci aiutano un po'. È una necessità che nasce anche da una recrudescenza di fenomeni che vanno attenzionati? No, non sono i fenomeni in sé, è la necessità di conoscere meglio quello che esiste, non c'è un peggioramento, la situazione la conosciamo abbastanza e la vogliamo conoscere meglio.